Nel cuore del cristiano c'è sempre la gioia, è il pensiero che Papa Francesco ha regalato ai tanti ragazzi dell'azione cattolica italiana ricevuti in Vaticano. Una gioia che nasce con la venuta di Gesù, con la scoperta che Dio ci ama e non ci abbandona, soprattutto quando le cose vanno storte o gli amici ci deludono. Il nostro padre, affermato il Papa, ci ha sempre fedele e non smette un istante di volerci bene, di seguire i nostri passi e anche di rincorrerci, quando ci allontaniamo un po'. Ma la gioia, arrammentato, va condivisa e testimoniata in famiglia, a scuola e in parrocchia. Ricordando lo slogan del cammino formativo della C, circondati di gioia, il Papa ha parlato di una metafora suggestiva, riferita al circo, che è esperienza di fraternità e di vita nomade, veicolo per far circolare la gioia, annunciando a tutti l'amore e la tenerezza di Gesù. Diventate apostoli della gioia del Vangelo, ha chiesto il Papa, e la gioia è contagiosa. Poi ha affidato loro un importante compito, ricordando con piacere l'iniziativa in favore dei giovani di un quartiere disagiato di Napoli. Parlate spesso con i vostri nonni. Anche loro hanno questa gioia contagiosa. Domandate a loro tante cose. Ascoltateli. Loro hanno la memoria della storia, l'esperienza della vita. E per voi, questo sarà un grande dono che vi aiuterà nel vostro cammino. Anche loro, loro hanno bisogno di ascoltarvi. Anche i nonni hanno bisogno di voi. Hanno bisogno di ascoltarvi, di capire le vostre aspirazioni, le vostre speranze. Ecco il compito, parlare con i nonni, ascoltare i nonni. Gli anziani hanno la sapienza della vita. Al termine dell'incontro il Papa ha fatto recitare una preghiera per ricordare il Vescovo Mansueto Bianchi, assistente dell'azione cattolica, scomparso ad Augusto. Gli volevo bene, ha detto Francesco, che lui dal cielo ci insegna ad ascoltare i nonni e a parlare con i nonni. Grazie.